Dopo essersi licenziato dall'Agenzia di Viaggi Globus di Lugano, nel 1978 inizia la sua carriera a Radio Tresa, una piccola radio libera di Lavena, occupandosi di tutta la programmazione, radio giornale, intrattenimento per le casalinghe e per i bambini, contributi politici e assistenza per i pensionati. Ha fatto la gavetta come intrattenitore a battesimi e matrimoni nelle pizzerie. Inizia la professione di attore comico nel 1979 al Derby Club di Milano. Fino al 1985 frequenta il locale con assiduità, mettendo in scena spettacoli con Francesco Salvi, Giorgio Faletti, Walter Valdi, Giobbe Covatta, Malandrino e Veronica, i gatti di Vicolo Miracoli. In televisione, fino ai primi anni 90. Lavora in numerosissime trasmissioni per Rai, Mediaset e Telemonte Carlo. Dal 1986 al 1989 Sportacus su Odeon TV. Fate il vostro gioco e tirami su su Rai 2. Banane su Telemonte Carlo. Nel 1993 di Domenica su Italia 1 e nel 1994 Italia Firza su Telemonte Carlo e Giro d'Italia su Italia 1. È noto per aver cantato il brano Bagliamo e Cantiamo con Licia. Con vari cantanti. Vincenzo Draghi, Ricchi Belloni, Silvio Pozzoli, Moreno Ferrara e Cristina D'Avena. Poi ha cantato un altro brano. Sempre con Moreno Ferrara e Cristina D'Avena. Ma con Giorgio Vanni e Marco Gallo. Tutti all'arrembaggio. Sigla di One Piece.